salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il game da come si vede allo sfondo oggi diciamo abbiamo pokemon e poi pokemon con chi? con il buon Dario ragazzi oggi bomba ooooh un Charizard sollezione premium Charizard X guarda che figa una nuova scena allora comprende una cassetta per carte, bustine protettive, carte promozionali che sono quelle che si vedono qui e le bustine di espansione facciamo una cosa prendo io e con una precisione chirurgica dici perché Charizard? esatto questo è stato un altro pokemon se la faccia non diciamo cosa è molto anti bimbo il prossimo tempo è che direi di aprire? si ah no è una teca una bellissima teca ah qua ci sono però che figo come fa qua ci sono le shield figo le shield di Charizard il codice lo diamo ai nostri amici questa la scriviamo e la mettiamo qua se c'entra si se non c'entra ma qua c'è il coso per la teca si c'è il mander e Charizard che l'abbiamo messo nella teca abbiamo due ossidiane infuocata due evoluzione appardea e due asti lucenti sfota e scuota direi di iniziare con quello che è in mano quindi asti lucenti ma prima di continuare con il video ecco lo sponsor di oggi games time acireale dove potete acquistare carti fumetti videogiochi e figures in negozio e online con il codice sconto rev game 5 avrete uno sconto del 5% su tutti i prodotti disponibili anche su prenotazione disponibile la spedizione in tutta italia per info contattare games time acireale su instagram sotto il link in descrizione non so il trick allora abbiamo faccio il codice lo diamo ok abbiamo rimplup gible rampage execute starlet questo non lo ricordo allora aspetta no ci sono altre x carte quindi ora vediamo come funziona il trick laxur che è quella tra virgolette rara quella rara la trasso bellega energia e allora vediamo proviamo se il prossimo è 5 io direi quelle là con charis ad rilasciarle per la tese e ti do questa qua e no la dammi l'altro l'altra di astri lucenti astri lucenti astri lucenti dove è forse di una astri lucenti ok però cerci a rizzardi ah perchè c'è a rizzardi allora l'ho proprio ottimo allora cosa vi passo? cosa ti passo? ti passo? questo qua evoluzione evoluzione a paldea il codice voglio darlo facciamo vedere ok ah già vabbè che ok sono tutte diverse sono diversi quindi fariga nakli i dragon e poi vabbè vabbè comunque però non ho la quelle rare si comunque era al contrario vabbè sì erano le prime vabbè allora i trick hanno detto sono onesto mi sacco a cerbellarmi per i trick vedete il codice perfetto giriamo così direttamente pikachu slakot guard guard questo bellissimo di pokemon bianco e nero piro piroar noi bat e tople ariamo figo così mi piace un cazzo 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 ivi con questo sono le carte poi le rare che abbiamo trovato hondur cobi lapras massore questo non lo conosco le fa charme un altro charme leon è uguale no forse con l'anderous poche po leggendario d'anderous ma forse è diverso cioè non è uguale mi pare che cambia la carità la realità questo sarà di qualche carità diversa l'anderous e l'angebos ossidane infuocata o astri lucenti ossidane infuocata scusate se era dopo il non ce ne siamo accorti vabbè un po' di certo il codice abbiamo trovato tutti i codici neri mio fratello codice neri rogi wolfix maoli shifter phantom oh questo sembra una bella carta mi ride on x non so il valore se voi lo andiamo a controllare velocemente vabbè poi lo controllerai magari si inserisce dopo ok anche perché velocemente con questa connessione che abbiamo oggi è un ecumismo ok effettivamente questo lo mettiamo qua ultimo pack astri lucenti primo codice primo codice aspetta si c'è si vede perfetto ok allora iniziamo dove si passa hold link vabbè questo qua questo qui set di acqua fresca poi ok youtube base così già base che praticamente ce lo siamo trovati esatto è figo neanche se lo sapevamo energia macerie dello stadio e con questo concludiamo vi ricordo di iscrivervi al canale di cliccare la campanella per rimanere sempre aggiornati se volete nuovo il codice pokemon ci sono nuovi video che usciranno piano piano sul canale e a presto ciao ragazzi grazie